Anna Paolella, pedagogista, referente dell'ufficio scolastico regionale del Molise, una domanda che parla a base di tutto questo discorso, come si interviene nella scuola per affrontare la dislessia? La scuola ha un ruolo fondamentale perché la legge assegna proprio alla scuola la presa in carico degli alunni dislessici e come lo deve fare. Ce lo dice la legge attraverso l'utilizzo di una metodologia che favorisca gli apprendimenti degli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento, cioè utilizzando delle modalità compensative e delle misure dispensative. Quando noi parliamo di modalità compensative parliamo di una strumentazione, tra cui anche la tecnologia ad esempio, che favorisca la compensazione delle difficoltà presenti nell'alunno. Quando parliamo invece di misure dispensative, cioè di dispense proprio dallo svolgimento anche di attività specifiche, quale può essere ad esempio il dettato nel quale noi sappiamo gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento hanno grande difficoltà. Cosa è cambiato con la legge regionale e in concreto quali strumenti mette a disposizione della scuola? Devo dire che la legge regionale è una legge molto completa, forse per certi aspetti è una legge più completa di quella nazionale perché determina la tutela della persona con disturbo specifico dell'apprendimento non solo in ambito scolastico ma ad esempio anche nell'ambito lavorativo, ad esempio nei concorsi pubblici a livello regionale e determina appunto per l'alunno con disturbo specifico di apprendimento un diritto ulteriore, quello di avere un percorso che sia di apprendimento o che sia professionale, che sia rispondente alle sue possibilità e che quindi non determina un ostacolo proprio in quanto ha delle difficoltà già in partenza. Tornando a scuola e volendo fare dei casi concreti, quando ci si trova davanti a un alunno dislessico o in che modo si interviene? Prima di tutto io credo che sia fondamentale stabilire una buona relazione educativa. Un alunno con DSA è spesso un alunno fortemente condizionato perché ha delle difficoltà anche relazionali all'interno del contesto classe in quanto non è un alunno competitivo rispetto ai suoi compagni. Quindi stabilire una buona relazione docente-studente, una buona relazione all'interno del gruppo classe e poi favorire anche l'acquisizione di strategie metodologiche, piccoli trucchi se vogliamo che possano permettergli di acquisire contenuti di apprendimento che sono uguali ai contenuti che acquisiscono i suoi compagni ma attraverso un percorso che gli sia più congeniale. Franca Di Marco, psicologa, per affrontare la dislessia c'è un'arma in più, la legge 170, cos'è? Allora è una legge che tutela i bambini dislessici, cioè i bambini che hanno una diagnosi di DSA, di disturbo specifico dell'apprendimento attraverso un piano didattico personalizzato dove vengono scelti gli strumenti didattici da utilizzare con questi bambini. È una legge questa nazionale, poi qui in Molise invece c'è una regionale più specifica, cosa dà di più? Diciamo che qui in Molise siete stati antesignani perché la vostra precedente è quella nazionale e mentre quella nazionale è rivolta più all'ambito scolastico, la vostra invece allarga il suo raggio d'azione anche per esempio alle famiglie e quindi cerca di coinvolgere il territorio. Lei si occupa anche di campus, cosa si fa in concreto in questi campus dove vengono organizzati? Alcuni sappiamo anche qui in Molise. Nei campus si fa un lavoro di tipo intensivo, una fuel in motion. per una settimana questi ragazzi più o meno in gruppo omogeneo formato da ragazzi per esempio prima e seconda media, seconda e terza media o quinta elementare e prima media sono seguiti da alcuni tutor, da alcuni formatori e attraverso l'uso del computer imparano a utilizzare quei mezzi compensativi che poi dovranno fare uno strumento proprio e continuare ad usarli poi a scuola. La dislessia la si riesce poi a superare completamente o solo in parte? Solo in parte perché si resta dislessici per tutta la vita, comunque è una caratteristica come è stato detto anche qui nel convegno che contraddistingue il soggetto per tutta la vita, però con una didattica adeguata e attraverso anche un percorso chiaramente di tipo riabilitativo si può bypassare. Quindi insomma fare una vita normale. Perché sono ragazzi intelligenti e dotati anzi di ottime capacità di tipo creativo, manipolativo, spesso anche sono molto bravi nello sport, nell'arte, nella musica. Sono parole molto importanti, era proprio per sfatare dei tabù, insomma ci sono dei luoghi comuni che effettivamente non sempre trovano riscontro nella realtà, insomma una persona dislessica una persona assolutamente normale. Assolutamente normale. E con questo è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che questa puntata oltre che sul nostro canale 11 potete vederla sul canale monotematico Molise Mio al numero 212 oppure seguirlo dall'Abruzzo al canale 96 o ancora come sempre sul nostro sito internet www.telemolise.com e cliccare in fondo e basso a destra sul link Viaggio in Molise. Grazie a tutti.